Ben trovati a Giovanni Pineri, oggi è il giorno di Latina Palermo, siamo nella settima giornata del campionato di 62 di Gino di Sud, una gara molto importante, qui Latina vuole puntare al vertice della classifica, il Palermo invece è sempre in lotta, la zona passa della classifica e non ha fatto mai bene in trasferta, tenuto dalla formazione panornita, attacco da parte del Palermo che vediamo cerca di sviluppare l'azione, si va dall'ifissa verso destra, il fallo da parte di Daniele Simeoni, la palla e mezzo, Francesco, lo faccio, il camminano del Palermo va sempre, attacco da parte della Tina che spinge con Mellacina, si ferma, in gioco comunque non si ferma, passaggio per Simeoni, Daniele Simeone, ecco l'ex Cile che avanza, la finta con il tiro Daniele, Simeone, ancora in Latina che va in attacco, c'è il fallo che viene chiamato, poi un cosiddetto di Massimiliano, figliaccio, nel secondo tempo in Latina realizza il gol, ancora il Palermo che va in attacco, l'isizza, vincolo, uomo in più per il Palermo che gioca con l'isizza, il pallone allargata verso la fascia, Fabiano antracite, Fabiano e il Palermo va ancora all'iscia, il Latina in attacco, ancora sempre con un nuovo in più, ma l'allargata verso sinistra, la finta, poi il tiro del gol del Latina, il Latina segno, Palermo che cerca il gol del pareggio, 8-7 punteggio, lato di azione da parte dei giocatori di Latina, ancora all'attacco del Palermo che cerca di andare sull'8-8, Ciliberti Andrea, Ciliberti! Ciliberti Andrea, Ciliberti Andrea! Ciliberti Andrea! Grazie a tutti.